Quella sei con un ureo ascibile di un monico! Torna qui, ruotito, ruotito di cervello! Ah, torno tra un minuto, genti. Il tempo per sistemare l'amico della natura. Non muoverti, divuovatore di cavote, t'ho preso, sei mio! Quello che faccio è un piccolo passo per mua! Un passo da gigante per mua romante! Raviva! E un mal di testa da primato per Taddeo! Quanto a statura, vi vedo un po' scarsi! Cerchiamo uno che si fa chiamare Bugs Bunny! Sì, Bugs Bunny, tu sai dov'è? Dove puoi essere? E nei paraggi? Mmm, Bugs Bunny, Bugs Bunny! Ditemi, per caso ha delle orecchie grandi e lunghe come queste? E se ne vai in giro saltellando in questa maniera? Sì! E ripete sempre che succede amico con questo tono? Ehm, che succede amico? Sì! No, non lo conosco! Sapete, a quanto pare è vero che non esistano altre forme di vita intelligenti nell'universo! La-da-dum, la-da-dum! Fermo dove sei, mister Looney Toons! Ehi, per chi ci hai preso? Per stupidi? Non muovere un cielo muscolo! Molto bene, coniglio! Adesso raduna tutti i tuoi amichetti! Vi portiamo a fare un giretto! Sì, sì, avviva! Che bello! Allora, dove andiamo? Siamo già arrivati! Siamo già arrivati!